Emanuele, da dove cominciamo? Cominciamo dalle nostre acque, dalle acque polari, andiamo alle acque fluviali italiane insieme a Marco Castellazzi che torna a trovarci. Aspetta, mi sposto un po' lo sgabello che se no mi devo fare una dieta dimagrante, insomma, fulminea per riuscire a infilarmi. Non mi sembri però sovrappeso. Eh ma qua non ci passavo comunque. Caro Marco, ciao, benvenuto anche qui in trasmissione con noi. Oggi ci hai portato delle specie molto, una specie molto interessante. Che cos'è? Perché qua in studio certi li guardavano e dicevano degli squali. In realtà non sono squali, vero? Sì, allora questi qua sono storioni. E adesso li vediamo meglio, ne parliamo perché pochi giorni fa, il 5 novembre, nell'acqua del Po, Yuri Grisendi, un pescatore vicino a Mantova, ha pescato questo storione qua, che è uno storione cobice di circa due metri e valutato intorno ai 60-80 kg. Dico valutato perché con la tecnica del catch and release, vuol dire del pescarlo e poi rilasciarlo, il bravo pescatore poi l'ha rilasciato andare tranquillamente. E qua lo vediamo mentre si inabissa. Fantastico. Questa fotografia è interessante, sembra un po' quelle foto di... Un dog mess. Un dog mess, esatto, un drago di log nel mosto di dog mess, invece è un pesce. Sì, sì, esattamente. Un pesce che è stato trovato in quella zona ed è abbastanza un fatto strano, storicamente, almeno attualmente, per quelle zone lì, è vero? Allora, attualmente sì, storicamente no. Esatto, sì, infatti voglio dire, ora sì, ma... Sì, esatto, lo storione nel Po c'è sempre stato. Plinio il Vecchio addirittura racconta che certi storioni diventavano talmente grandi che per pescarli bisognava metterci un amo attaccato ad una catena e potevano essere estratti dall'acqua soltanto da una coppia di buoi. Accidenti. Perché certe specie di storioni possono arrivare a 7,2 metri, è il record di uno storione beluga e questo è uno storione bianco americano che anche questo, come vedi, ha delle dimensioni abbastanza interessanti. Però 7,2 metri per 1.500 kg di peso, insomma, non è uno scherzo. Sono animali che effettivamente, almeno nella loro anatomia, ricordano un po' gli squali. Sono animali anch'essi abbastanza antichi, come sono anche gli squali. Guarda, hai iniziato bene tu dicendo quella cosa degli squali. Intanto ti faccio notare che come gli squali hanno la coda, vedi, si dice eterocerca, vuol dire che ha il lobo superiore più alto. Qua stiamo vedendo la bocca, si vede la coda dietro. Voglio farti vedere anche la bocca che è ventrale, cioè posta sotto la pancia, non è sulla apice del muso, perché sono pesci che vanno a grufolare nel fondo, catturano piccoli pesci, invertebrati e, insomma, quando sono così grandi anche di più. Purtroppo nel Po, fino a una cinquantina d'anni fa, erano molto ben presenti. Adesso ce ne sono molto di meno, però questa cattura lascia ben sperare, perché vuol dire che i vari tentativi di ripopolamento, anche con i vari progetti europei, Life e Compagnia Bella, ne hanno buttate davvero centinaia di migliaia di larve, di larve direi, di piccoli storioni e molti hanno anche il microcipio per cercare di capire che giri fanno gli spostamenti e, insomma, sicuramente la cosa più importante è rimettere a posto il fiume. Ecco, infatti, perché poi quali sono alla fine della storia le minacce principali che ancora oggi temono gli storioni nel nostro Po, per esempio? Certo. Allora, lo storione nostro, che non è questa specie qua... Chiamiamo in studio se questa è un'altra specie. Esatto. Questa è un'altra specie. Tra l'altro ti voglio far notare che sono così piccolini, ma hanno due anni. Quindi vuol dire che ci mettono tanto tempo per crescere, tanto tempo per raggiungere la maturità sessuale, per questo è più difficile avere una grossa diffusione di questa specie. Purtroppo le situazioni di inquinamento del Po, mi riferisco allo storione adriatico, quello che abbiamo visto prima, e soprattutto il bracconaggio, ma ancora di più il fatto di mettere delle barbiere, impedisce a questi pesci di risalire. Allora, prima bisogna risanare gli alvei dei fiumi, dare loro delle opportunità per poter risalire. Dopodiché, in contemporanea, vengono fatte delle azioni di ripopolamento e, se la qualità delle acque lo permettono, è un pesce che piano piano può riprendere piede laddove è sempre stato. Quindi ha una sua comunque capacità di resilienza. Sì. Grazie, amato. Monster! Sturgeon! Monster! Monster! Sturgeon! Yeah! 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 Ok. Now I release the jack of the river. The king of the river. Bello, te mamma! Vai baby Yeah Yeah Really happy Yeah Yeah